Parliamo di revisione del testo. Generalmente associamo alla fase di revisione del testo l'andare a caccia di errori, refusi, migliori a livello strutturale e quant'altro. Certo, questa è una fase importante, anzi direi fondamentale, ma c'è un altro aspetto da non sottovalutare, specialmente per quanto riguarda la scrittura di romanzi, quindi di testi lunghi, testi per cui magari abbiamo impiegato mesi a scrivere la prima bozza. Per quanto noi abbiamo scalettato, abbiamo scritto una sinossi, abbiamo creato delle schede personaggi, chiaramente noi non sappiamo, non conosciamo tutti i dettagli né della storia né dei personaggi. D'altronde è questo il bello della scrittura, cioè i personaggi man mano che noi scriviamo prendono vita e fanno delle cose, dicono delle cose in piena autonomia. Questo è veramente un aspetto bellissimo della scrittura. Bene, quindi una volta che noi abbiamo finito la prima fase, avremo appreso delle cose, dei dettagli in più sul nostro personaggio, qualsiasi cosa, ma anche cose piccole. Ad esempio ho scoperto che il mio personaggio fuma, e il mio personaggio fuma magari proprio una marca specifica di sigarette, l'ho scoperto al capitolo 5. Bene, questo personaggio fuma, allora quando io vado in fase di revisione, al capitolo 1 magari il mio personaggio è alla fermata dell'autobus. Bene, allora gli faccio prendere una sigaretta e lo faccio fumare alla fermata dell'autobus. Ecco che magari ci sono altri due personaggi secondari che magari si lamentano, ecco come si arricchisce la trama. Al capitolo 3 riceve una brutta notizia, un brutto voto, l'hanno licenziato, bene, esce fuori e fuma. Ora, tutte queste cose servono appunto a rendere un testo, a rendere una storia più coesa, più compatta, e servono proprio ad arricchire il mondo che noi abbiamo costruito intorno al personaggio. Grazie.